La mafia si rialimenta investendo nel traffico di droga. La provincia di Siracusa è in mano ad una criminalità organizzata che sta immettendo sul mercato grossi quantitativi di sostanze stupefacenti. Questo è emerso nel corso dell'audizione delle forze dell'Ordine della Procura della Repubblica da parte della Commissione regionale antimafia arrivata in prefettura per una giornata dedicata a quanto accadde nel siracusano. Parole di grande preoccupazione, quelle del presidente Antonello Cracolici, che non ha mancato di rimarcare anche l'aumento sconsiderato di assuntori. Emerge quello che sta emergendo in tutta la regione, di cui probabilmente non ne abbiamo ancora contezza in termini di attenzione all'opinione pubblica. Siamo invasi da sostanze stupefacenti. La mafia e le organizzazioni criminali stanno inondando i nostri territori di droghe rivolte a tutte le fasce sociali e a tutte le generazioni. C'è un consumo crescente e quindi c'è un sistema di arricchimento enorme che viene reinvestito prevalentemente in attività tra virgolette lecite che vede in alcune province dove la crescita in termini di sviluppo è fortunatamente stata più accentuata. Penso anche al siracusano nel settore sia dell'agricoltura ma anche del turismo. E quindi bisogna far sentire ai siciliani, avere la consapevolezza che droga vuol dire mafia. Sempre di più noi stiamo aiutando i mafiosi a ricostruire una grande ricchezza che malgrado le attività di sequestri che vengono fatti incide solo per una parte di quella ricchezza che si sta accumulando a tal punto che ci viene riferito dalle forze dell'ordine che persino l'attività estorsiva in questo territorio appare meno acuta proprio perché c'è quasi una compensazione tra l'arricchimento proveniente dalle sostanze stupefacenti rispetto alla capillarità del sistema estorsivo nei confronti di imprenditori, aziende. Ecco, io credo che Siracusa, come il resto della Sicilia, ci dimostra che c'è una mafia che sta sempre la stessa ma che sta cambiando pelle economica. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno inoltre lamentato l'esiguità di personale, una difesa del territorio affidata a contingenti nati con una realtà demografica di qualche anno fa e assai diversa rispetto alle necessità di un territorio adesso più vasto. La conferma che il sistema della diffusione delle sostanze stupefacenti è diffusa in tutta la provincia. È concentrata in alcune aree di spaccio che vede la città di Siracusa ma anche alcuni comuni della provincia particolarmente accentuata. Però su questo non c'è differenza tra città e province, tra grandi e medi comuni. Quindi bisogna capire anche come l'organizzazione dello Stato, anche in termini di forze numeriche, perché ci facevano rilevare anche che paradossalmente l'organizzazione del sistema dell'ordine pubblico in questa provincia è costruita su modelli demografici che magari erano vigenti 30 anni fa. Siracusa è una delle province che d'estate raddoppia la sua popolazione ma il sistema del controllo del sistema dell'ordine pubblico è costruita su un'altra dimensione numerica. Anche questo è un tema su cui la Commissione Antimafia ha il dovere di analizzare e di porre agli organi istituzionali perché si abbia l'attenzione necessaria in quelle aree più a rischio e certamente questo è un territorio a rischio per la ricchezza che in questo territorio si è via via accumulata e quindi credo che dobbiamo dare una mano a organizzare meglio la presenza dello Stato e a contrastare in maniera più efficace non solo la mafia che controlla la droga ma per impedire che i nostri ragazzi che si stanno sempre più avvicinando alle sostanze stupefacenti con una facilità che è persino maggiore rispetto al passato.